Ciao, mi chiamo Elisa e sono qui per affermare i punti importanti e i benefici che questo integratore naturale prodotti per le donne che lavorano molto e dare attenzione alle loro famiglie, questi compiti del giorno per giorno, lasciando noi donne affaticato, ad un punto di trasformare in estrema stanchezza. Guardate il video fino alla fine, date un like, commentate l'argomento in questione e scrivete voi stessi per avere altre movidades. Per approfondire la vostra conoscenza c'è un link sotto il video, a sinistra, per facilitare la vostra ricerca. Andiamo alla presentazione. Diverxin FemVigor è il prodotto di una nuova scoperta medica che rivela rari ingredienti segreti non presenti in nessun'altra pillola per la libido femminile. I suoi segreti asiatici 100% naturali aumentano la libido e mantengono la salute delle donne velocemente. Questi potenti ingredienti sono stati etichettati come gli anelli mancanti che garantiscono l'aumento della libido, la stimolazione del desiderio sessuale, il miglioramento dell'umore, il supporto